Con questa partita usciamo vittoriosi per 3 a 0 qui a Verona contro l'Antares, dopo una partita abbastanza facile per quello che riguarda i primi due set, mentre poi ci sono complicate nel terzo set. La lettura della partita è innanzitutto derivato dal servizio dove con quel fondamentale siamo riusciti a mettere molto in difficoltà i loro ricettori attaccanti e quindi loro hanno molte difficoltà a ricostruire. Il primo set è andato via abbastanza lineare ma anche il secondo set, poi sul 23 ho voluto fare un doppio cambio, ho inserito dentro Basalari e Di Giulio e lì devo dire che le quattro ragazze che erano in campo si sono un po' adagiate e abbiamo subito un break di 4-5 punti. E questo chiaramente ha caricato la squadra avversaria che poi nel terzo set ci ha dato il filo da torcere. Però devo dire che anche nel terzo set dove loro sono andati avanti e andavano lì punto a punto è stato bello vedere comunque che non è che a un certo punto siamo scappate, nelle difficoltà siamo stati capaci di reagire e superare momenti difficili chiudendo comunque il set della partita. Quindi tutto sommato sono molto contento perché in giro di due settimane abbiamo recuperato un po' la forma fisica di alcune ragazze, in particolar modo mi è piaciuta molto Marinoni e Ducoli e poi che dire, vabbè, Clara ci fa la differenza e nei momenti comunque un po' complicati ci risolve con la sua tranquillità e con la sua esperienza. Quindi complimenti a tutte le ragazze per il lavoro che stanno facendo in palestra e per quanto riescono ad applicare.